Passaggio a un festival di sinistra. Erano questi commenti che avevano fatto sbottare il direttore Giovanni Belfiori, stanco di leggere critiche sugli ospiti, da ultimo riferite alla presenza della giornalista luce annunziata in un lungo post pubblicato su Facebook. Belfiori aveva condiviso una riflessione su quanto accaduto elencando diversi personaggi della prossima e delle passate edizioni che invece non appartengono a quell'area politica. A dimostrazione aveva precisato che il festival non è un'arena politica e nemmeno una sezione di qualche partito. Eppure questa storia si ripete da 11 anni. I matrimoni per forza non possono funzionare, aveva scritto, se non si vuole passaggi va benissimo, personalmente non ho nessun motivo né interesse a rimanere per forza a Fano. A questo punto, aveva aggiunto il direttore, l'unica cosa saggio da fare è iniziare una riflessione attenta che cade nel momento più adatto poiché nel 2024 scade la convenzione con il comune di Fano. Non sappiamo se il comune rinnoverà l'accordo, ma a questo punto siamo disponibili a valutare fin da ora proposte da parte di altre realtà, sia nelle Marche sia in altre regioni, così da liberare Fano da questo problema che è passaggi festival. In poche ore la notizia aveva fatto il giro della città suscitando parole di incoraggiamento. Avanti tutta aveva postato l'assessore al turismo Etiel Lucarelli, che oggi è tornato a ribadire il totale supporto alla manifestazione. Assessore Lera è intervenuto subito dopo il post di Belfiori, confermando che il festival è patrimonio della città. Sì, sono intervenuto subito perché mi dispiace sentire direttamente dalle parole del direttore l'essere colpito da queste critiche che vengono mosse a passaggi. Io credo che le persone che si dedicano alla nostra città, a far emergere le sue caratteristiche, che sono tante, noi abbiamo un humus creativo veramente importante, debbano essere sempre costantemente ringraziate e soprattutto motivate a continuare a credere nella crescita della nostra città. Ecco, Passaggi in questi anni ha fatto una crescita importante, è di fatto un patrimonio della città, una bellissima manifestazione che fa emergere questo carattere che riguarda la letteratura, che a noi piace molto. e ovviamente per fare questo ha aperto una collaborazione con volontari, con associazioni, con enti, con istituzioni e quindi si può dire che ormai Passaggi è creato di fatto dalla città di Fano, creando quest'ampia collaborazione. E quindi crediamo che tutti insieme dobbiamo lavorare per sostenerla, tra l'altro sono contento che in questi giorni sono tante le istituzioni, le associazioni di categoria che sono intervenute a sostegno di questa manifestazione e quindi oltre a intimare a credere in Passaggi a imprenditori e a cittadini e nel motivare queste persone, ecco, credo che tutti insieme possiamo fare un bel lavoro nel futuro per continuare a credere in questa bella manifestazione. Passaggi deve rimanere a Fano.